L'Alga nasce verso la metà degli anni 80 come una costola dell'allora gloriosa società sportiva 1AR che ai tempi gestiva il settore assoluto e all'Alga fu demandato lo sviluppo del settore giovanile. La società ha avuto sempre una buona affluenza ma negli ultimi anni i numeri sono letteralmente esplosi. Ormai siamo arrivati nei vari corsi che proponiamo a 250 iscritti. Questo sport, l'atletica leggera, è importante per i bambini perché in primo luogo li socializza, quindi li mette a confronto con pari età, più grandi e più piccoli e li avvicina anche alla sportività e alla competitività della gara e dell'allenamento. Questo sport aiuta a misurarsi con le proprie capacità, quindi ognuno prima di tutto si misura con se stesso e quindi può trovare la propria dimensione migliorandosi prima ancora che volendosi misurare con gli altri. Inoltre aiuta molto lo sviluppo del carattere in quanto come tutti i sport individuali quando arrivi al momento della competizione sei tu solo contro gli avversari, contro il tempo, contro la misura. Quindi la componente psicologica è molto forte, quindi aiuta a sviluppare la determinazione nei ragazzi, la convinzione nei propri mezzi. Grazie a tutti!